che non si sa mai serviamo subito fa diventare croccante però abbondante aiutatemi a dire tanto tantissimo e pepe nero e andiamo io vado così allora qui il guanciale si sta facendo intanto butto la pasta poca ma buona mettiamo qua dentro godiamo bella ricca per fare una vitamina amara te puoi fare anche una carbonara vai facciamelo correre tutto proprio in questo vicisistante vedete? qui si attira tutto sping vai così guardate qua ci siamo sentite il rumore qual è? aggressiva ma maschio ma non tanto questo ragazzi è il canale di godreccio iscrivetevi ciao